A 15 metri il lupo è arrivato e ha preso una, l'ha ammazzata e un attimo, ti volti lo sguardo, 5 minuti e qui siamo circondati. Attenti al lupo, citando Lucio Dalla, qui nel Valdarno Aretino cresce infatti la preoccupazione. Questa azienda agricola di terra nuova Bracciolini da inizio anno ha subito ben 15 attacchi, l'ultimo solamente pochi giorni fa. Con circa una ventina di animali uccisi, animali sia adulti già in produzione sia animali giovani, aggredirlo, ammazzarlo è inquietante, vederlo con i nostri occhi così vicino è così letale, è un attimo. A questo poi si aggiunge il danno subito da tutto il gregge. Gli animali sono stressati, quindi gli animali che producono latte perdono, cala la produzione di latte e per noi che siamo un'azienda, il nostro core business è il caseificio, vuol dire un calo del fatturato insopportabile. Impossibile difendere gli animali dall'assalto dei lupi, impossibile continuare ad allevare soprattutto allo stato brado. Non possiamo più tenerli liberi perché 10 minuti senza essere accuditi noi si torna giù e troviamo l'animale morto, scannato. Non si cerca di fare un'agricoltura tradizionale, ecosostenibile, ma in cambio abbiamo niente. A tendere una mano agli allevatori la regione toscana con un bando che ha messo a disposizione 400 mila euro per gli attacchi subiti. C'è un indennizio per ogni capo, per ogni capo abbattuto dal lupo, ma non riconosce tutto quello che c'è poi a valle di questo. Un appello disperato che non vuol puntare però il dito contro il lupo. Nessuno di noi si permette di mettere in dubbio il diritto del lupo a esistere, cioè il pianeta non è il nostro. Io sono il primo a difendere il diritto del lupo a popolare, ma il mio diritto di imprenditore agricolo, di condurre la mia azienda, chi lo garantisce?